Allora, io visto che i tempi sono sempre strettissimi, lascerei subito il microfono alle mie mani e lo darei a chi vuole chiedere, non so se quello che ho detto prima aveva fatto venire qualche domanda, usiamola così questo momento, non ti ho dato il microfono, parla solo che ho il microfono in mano, c'è solo questa regola, talking stick, non hai il microfono, alzate la mano. Chiedo che romanzo era per tutti così, prima domanda è che romanzo era, questo è Cooperative Learning, tutti vogliono sapere il romanzo, però ho una seconda domanda, sono Barbara Hurdank dell'Associazione Italiana di Silesia e ogni giorno naturalmente mi trovo un po' nella situazione di docenti che mi dicono, ma no, io ho tre BES, quattro ADHD, cinque, cioè i ragazzi non sono più nome e cognome, ma sono sigle, mi aiuti a rispondere a questa cosa, cioè io ho bisogno che, visto che ho un doposcuola di 200 ragazzini, quindi sono sempre con i docenti e vado continuamente a cercare di trovare strade, no? e trovo tantissimi muri, quando un docente mi dice, ma non posso fare questo per tutti, non posso fare la verifica strutturata, non posso usare le mappe, non è giusto, che eh, citavi Don Milani, volevo, dammi la mano. Mi alzi la palla, è troppo facile. C'è un'altra domanda? Rispondo a queste due? Tac, eppure cadiamo felici di Enrico Gagliano, storia di due adolescenti, una storia bellissima, travolgente, sì, eppure cadiamo felici, gli ho chiesto l'autorizzazione a leggerlo ogni tanto, però aiutami a vendere le coppie, no vabbè, quel passaggio lì è veramente forte. Allora, su, eppure cadiamo felici, cadiamo, sì, ma per voi che siete venuti qua vi dirò un pezzettino in più che è la quarta ricopertia, che sono solo quattro righe, ve le dono a voi. Eh, sulla, sulle difficoltà, su, vabbè, oggi, stamattina qualcuno diceva, noi, forse eri proprio tu a dirlo, non ricordo più, cioè già noi con le nostre parole creiamo le nostre cornici e le nostre gabbie spesso sono le nostre parole. Il bambino in difficoltà, se è il bambino DSA, è il dislessico, è il discalculico, tutti dis, è già una gabbia che noi stiamo costruendo, ma non solo per lui, anche per noi, perché lui è già un elemento di difficoltà, è già, come dire, quello che mi rallenta, mi appesantisce, no? Allora, innanzitutto io direi a tutti gli insegnanti di venire in Università di Milano Bicocca a fare il corso di didattica della letto scrittura, per, io dico Milano Bicocca perché è l'unico che ho sperimentato e nelle altre università non ho sentito altri corsi, perché ci sono delle cose che noi possiamo scegliere di fare, molto semplici, che non ci fanno fare il lavoro doppio, ma ci permettono di personalizzare, cioè ci permettono di provare ad aiutare ciascun bambino a crescere nell'acquisizione, ad esempio, del codice alfabetico, partendo da quello che lui sa fare. Io quando lavoravo con il bambino Mb, perché era di là, all'inizio per lui era, va bene Mattia, perché lui ha messo la M perché Mattia quella lettera la conosceva, ma quando dici il primo giorno di scuola tu senti la M? A un certo punto ha detto di no, allora quando il fonema grafema non corrisponde andiamo a cercare delle altre cose. Per l'altro bambino invece lo stimolo era iniziare a lavorare, non so, sulle parole che hanno l'H, su di grammi, te grammi particolari, no? Perché? E come potevo pensare che una scheda, una fotocopia andasse bene per tutti? Allora però se dico tu per favore scrivi una lettera alla mamma, tu scrivi una lettera al papà, tu scrivi una lettera. E dentro la lettera però tutte le volte che loro scrivevano io mi fermavo con loro a rileggere ciascun testo e a farlo rileggere a loro. Cioè loro mi dovevano dire che cosa vedevano in quel testo e mentre loro mi dicevano cosa vedevano in quel testo io capivo a che, come dire, nella mia griglia mappa mentale di livelli di concettualizzazione dell'approccio Ferrero-Teberoschi che è il metodo naturale, la lettera o scrittura, capivo come aiutarlo a fare il passaggio in avanti per arrivare all'acquisizione del codice alfabetico. Questo si può fare. E certo però la prima cosa che devi fare è chiudere i libri. Eh? La prima cosa che devi fare, scusate, è chiudere i libri di testo, bruciare le schede, le fotocopie, dare fuoco alle fotocopiatrici in classe e ricominciare da capo. Io ho cominciato con i testi, con le conversazioni. Ah, scusa, no, l'ultima cosa. Quello che va bene per un bambino che ha la dislessia va bene per tutti. Quando io faccio una mappa concettuale, noi non abbiamo i libri di testo, adesso stiamo studiando, abbiamo iniziato a studiare i greci. Quando facciamo il testo di quello che abbiamo preso in giro dai vari testi che leggiamo, subito insieme facciamo la mappa concettuale, cioè prima magari ci provano loro in gruppo, poi le rivediamo insieme. Quando tu hai il testo scritto, la mappa concettuale, le immagini, no? Insomma, io ti ho dato diversi canali, diverse possibilità, diverse strade. È chiaro, però, se questa cosa la devo fare, per gli assiri, babilonesi, i sumeri, eh, non ce la faccio. Ma chi è che mi chiede di fare quella cosa lì? Più nessuno. Non c'è nessuno che ti chiede. Però se il problema è che il programma lo facciamo decidere a chi fa i libri di testo, cioè degli editori, allora è chiaro che cosa facciamo? Sai, io devo fare tutto, c'è nel libro. Mi sembrano quelli che dicevano una volta, sa, questo è vero, salve, questo è vero perché l'ho sentito in televisione, no? Cioè, è fuori dal tempo questa cosa qui, non ha senso. Una cosa che deve fare l'insegnante, una cosa che io chiederei da genitore agli insegnanti, una cosa che chiederei a me stesso come insegnante, è quella, fammi vedere cosa scegli. Cioè, la tua autonomia didattica, il tuo essere insegnante si manifesta in quello che tu scegli di fare, non in quello che fai come tutti gli altri. Questa è una cosa importante, secondo me. Non so se ho risposto pienamente alla tua domanda. Voglio dire un'altra cosa. Ah, le conversazioni che uso, le conversazioni sono gli strumenti di riflessione linguistica. Perché quando tu hai un testo, quello degli zingari che ho citato prima, ma in questi anni adesso noi abbiamo un raccoglitore così pieno di conversazioni. Quando loro hanno iniziato a leggere lì sopra, loro hanno iniziato a leggere sulle loro parole. Quale testo più autentico ci può essere? Quale editore può sapere che cosa diciamo noi? Che vita viviamo noi? Loro su quei testi hanno avuto la possibilità di riflettere sulle loro parole. Dovete vedere, io non metto mai nomi. Contrariamente da un maestro, Mario Lodi, che nelle conversazioni metteva sempre, io non li metto mai, perché mi piace troppo quando lo rileggiamo in classe, vedere la faccia e iniziano a sorridere, che si riconoscono. Magari lo sta leggendo un altro, ma si riconoscono che quella parola l'hanno detta loro. E guardate che riflettere sulle proprie parole è una condizione che manca agli adulti di questo tempo. Allora se noi ci abituiamo e qualcuno ci dà lo strumento per riflettere sulle nostre parole, facciamo un bel esercizio culturale. Dall'altra parte su quei testi hanno fatto riflessione linguistica. Quando c'era da trovare gli articoli, i nomi, gli aggettivi, sono andati a cercarli lì. Perché lì era pieno, cioè in quei testi erano le loro parole. L'analisi grammaticale le facciamo su quello che diciamo. No? Volevo sapere, da quello che ho capito, le conversazioni vengono trascritte, quindi. E gli argomenti delle conversazioni in che modo? Cioè, è esatto. Un'altra domanda? Rispondo al volo. Le conversazioni alcune volte le ho proposte io. le più noiose, posso dirti. Cioè, non lo so, mi interessava capire, ma per voi che cos'è uno zero? No? Allora stiamo lavorando, oppure dopo aver manipolato numeri o quant'altro, ma per voi che cos'è questa cosa qua? No? A un certo punto un bambino mi dice, maestro, dicelo tu dai, che tanto lo sai. Io gli ho detto, sì, è vero, io magari un'idea ce l'ho già, però mi interessa sapere la tua. E soprattutto, guarda, io non voglio augurarti il male, ma non so se ti capiterà tante altre volte nella vita che qualcuno darà attenzione e peso a quello che dici tu. Quindi adesso goditela sta cosa che ti chiedo che cosa pensi, no? E diverso è quando loro ti portano invece un argomento. Ti ho citato l'esempio di prima, ma ce ne sono tantissimi altri. Per esempio, la cito questa cosa, noi una volta abbiamo fatto una conversazione su un argomento che è stata l'unica conversazione che io non ho restituito a loro, perché le trascrivo e le restituisco, no? Ed era una conversazione sulla pornografia, che hanno fatto loro, sono partiti loro, perché dicevano che ci sono delle cose violente, vedono delle cose violente, la morte, le guerre, bombe, saltina, ma poi una bambina dice, no, però ci sono anche quelle altre cose violente, quelle che fanno sotto le lenzuola. Dico, ma, ok, sai, gestisci così, lei ha detto questa cosa. No, 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 si alza in piedi un'altra bambina. Io vedo soltanto i film dove fanno solo quelle cose lì, sotto le lenzuola. Si vede, inquadrano solo la parte che sta sotto la lenzuola, di solito. Oppure il bambino gli dice, sì, no, ma alcune volte vanno, tu li vedi, vanno a fare la passeggiata, poi sono sotto le coperte, non si capisce come mai, no? Allora mi sono interrogato, come mai i bambini, non era l'unica, ce ne erano due, insomma. Io quella conversazione l'ho rostituita, ho convocato i genitori, l'ho rostituita i genitori, gliel'ho letta, e dico, che cosa sta succedendo? I vostri bambini hanno in mano degli strumenti, forse voi non conoscete o forse conoscete. Abbiamo provato a ragionare intorno a questo tema. Una mamma poi mi ha detto, ecco perché mia figlia non vuole più che io vada a dormire con mio marito, sta facendo delle scene in questi mesi, no? Ci sono cose che, come dire, che fanno parte della loro vita, quando c'è stato, ci sono cose brutte, quando quei migranti sono stati bloccati in un paese che non li voleva accogliere nessuno, sono state fatte le transende, quando c'è stato al Bataclan, sono cose che sono cose che io non vorrei parlare, perché vorrei anche tutelare la loro infanzia, già che ci sono pochi che la tutelano, ma per loro quello è pane quotidiano, cioè io ho un bambino che sta su Sky News 24, una quantità di ore è impressionante, come ho il bambino che si guarderà in storia e sa tutto di Hitler, Hiroshima e tu pensi che fare storia in prima sia prima, adesso e dopo. Tu insegnante, no? Prego. Finalmente, a me dispiace aver perduto, però ero in un altro workshop, però stando a quello che sto sentendo magari secondo qualche intervento, io vedo una cosa, a me risulta difficile tirar fuori le domande, le curiosità e farli parlare. Io ho in questo momento, quest'anno, perché ogni anno non si sa come mai io lavoro in una scuola primaria, ho la prima, la seconda e la terza elementare, però faccio materie, discipline, come le vogliamo chiamare, diverse, anche se io quando faccio matematica dentro ci metto anche un qualcosa che ha a che fare con la storia, con la geografia, cioè chiedo permesso ai miei colleghi e dico guarda che non sto entrando nel tuo campo, però sai ho bisogno per poter lavorare su un qualcosa di pratico e non isolare i vari saperi, anche di entrare nella tua disciplina. E su questo diciamo, finora non ho avuto problemi, però mi accorgo che, per esempio, in terza faccio scienze. Giustamente io sono una che gli vuole fare ragionare su quello che stiamo facendo e comincio a fare i miei, perché i miei, nel senso dico facciamo il contrario, anche perché voglio dire, ormai siamo anche nel contesto, non sono io che vi faccio le domande, tipo le domande di verifica, ma siete voi che le fate a me sotto forma di intervista. Ecco, non rie... ho visto una difficoltà da parte l'ora, forse non sono... è il primo anno che sono dentro con questa classe. Non sono abituati né a riflettere, né a dire ma perché mi stai chiedendo che cosa ne penso io su questa cosa. E vedo che sono sterili e poi anche sul lato delle conversazioni, li vedo che mi guardano come per dire ma perché sta maestra ci sta chiedendo di ragionare su queste cose. Io ho difficoltà a farli stare zitti. Proprio... Sì, 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 ho capito, quando li vuoi stimolare diventa questo maieutica un po'... C'è un'altra domanda? La mia era una curiosità rispetto alle 20 ore, se eri maestro unico o se lavoravi in team. Perché faccio questa domanda? Perché, come direi, una impostazione pedagogica di questo tipo, se si lavora in team, richiede assolutamente una condivisione di pratiche e di strategie educative. Al di là di questo, come oggi la scuola è organizzata qua, non si può fare, dobbiamo mettercelo in un senso di grossa realtà, dove sempre di più si arriva a, come dire, contare le ore che hanno gli insegnanti, per cui nelle scuole si riducono gli organici e quindi abbiamo insegnanti che lavorano in verticale, orizzontale, obliquo, ormai siamo dei veri trapezisti. Come si possono costruire relazioni di senso quando si hanno programmazioni in cui sei un'ora da una parte, un'ora dall'altra e quindi fai molta fatica, quando non si condividono poi alcuni principi pedagogici, quando poi devi oltretutto educare anche dei genitori, perché devono essere pronti a vivere la scuola in questa maniera, perché hanno avuto altre esperienze o hanno avuto, come dire, di questo tipo. E un'altra domanda invece molto interessante, perché la stiamo portando nella mia scuola e quindi vorrei capire come avete fatto, noi vogliamo abolire i voti e questo è un aspetto. Allora, io volevo sapere semplicemente, da un punto di vista tecnico, la conversazione, come la registri? Cioè, tu nella conversazione partecipi, no? Eh, ho capito. E poi come fai a riscrivere? La scrivi direttamente mentre loro parlano? Le notti. Ah. Cioè, la registri? Ok. Anzi, qualche volta sono proprio i bambini ormai che dico, maestro, secondo me questa cosa è importante, è meglio che la registri. Ah, va bene, la registro. Allora, il mio, la mia esperienza non è un modello. Tamagnini non fa metodi. Quindi queste due cose teniamole presenti, perché c'è questa specificità, un po' di come sono fatto io e un po' del contesto in cui sono finito. Allora, io sono finito in un contesto di scuola 27 ore, dove mi è stato detto appunto fin dalla prima vuole fare italiano, matematica e inglese. E io ho detto, fantastico. Poi, alla fine della seconda ho capito che le altre colleghe che facevano gli spezzatini in sua mia classe continuavano a cambiare, che alcuni erano in difficoltà a qualcosa e quindi ho chiesto di essere esonorato dall'inglese, esonorato dalla seconda classe e fare tutte le ore solo con quella classe dove avrei fatto italiano, matematica e cosmica. Quindi matematica, scusate, scienza, storia e geografia. Perché? No, della Montessori. Perché questa cosa? Questa è una scelta organizzativa però. Perché si può fare questa cosa? Perché io te la motivo. Cioè, io chiedo a chi dirigente, insomma, anche nel confronto con le colleghe, cioè io una scuola come l'ho immaginata, come la sto vivendo, diversamente non riesco a farla. O loro mi dite che questa cosa non la devo fare? E vabbè, lotterò per farla. Oppure, cioè, mettiamoci delle nanzie. Il fatto è che io la faccia così, agli altri crea qualche problema? No. I massimi problemi sono miei di dover gestire questa pluralità di cose. Al team dei docenti che lavora con me, che è sempre cambiato, ha fatto fatica, perché è abituato a un'impostazione. Cioè, io il secondo anno ho detto alla mia collega, guarda, quest'anno proprio i libri non li prendiamo neanche, perché io ero arrivato con la reddita della prima, c'erano dei libri, ho detto, i libri di testo, cioè, sono soldi sprecati, usiamoli per investire in altre cose. Allora, se mi aiuti, però, se mi aiuti, certo che ti aiuto. Però poi se gli togli anche i voti, all'insegnante, togli il libro di testo, togli i voti, qualcuno ti può dire cosa vado a fare? No, scherzo. Però anche quella cosa di io è stata difficile, forse quella è la più difficile, perché siamo abituati, è un modello troppo nostro, non so, culturale forte, no? Quindi dobbiamo subito dare un risponso. Arrivando al paradosso, però, che si dice che con i voti noi scopriamo, beh, a parte l'oggettività, che potrei smontarla in un attimo, ma arriviamo a dire a dei bambini di prima elementare, una mamma è venuta a chiedermi un aiuto, mamma della scuola dei miei figli, quindi non c'entra niente con il mio lavoro, in prima elementare, bambino straniero, le maestre mi hanno detto che non imparerà mai l'italiano. Eh, però la scuola è fatta di queste cose qua anche. Eh, allora noi dobbiamo cambiarla tutta, la scuola, capito? Per capire come concretamente ho tolto i voti di leggere il libro, se no cosa l'ho scritto a fare? Comunque sta nell'autonomia, sta nella responsabilità che mi sono preso io e di una responsabilità che si è presa la mia dirigente. Sono due responsabilità, uno in classe che gestisce le cose e anche alla fine dell'anno, non hanno mai avuto il voto, non hanno mai avuto il voto, si può scusa però che genere di feedback dai ai ragazzi? Cioè, non me. Allora, i feedback che uso, se sono, vabbè intanto iniziamo, pensiamo a questa cosa, adesso dico una cosa impopolarissima nel mondo della capovolta, mi sa, pensiamo a questa cosa che il modo in cui noi valutiamo è il modo in cui noi immaginiamo l'apprendimento, cioè l'idea di apprendimento, cioè lo strumento che noi usiamo per valutare, tutti gli strumenti che usiamo per valutare ci danno un'idea di che idea abbiamo dell'apprendimento, quindi questo rapporto, no? Valutazione-apprendimento dobbiamo tenerlo in testa perché se noi abbiamo un'idea dell'apprendimento e poi facciamo le verifiche in un certo modo, i voti, stiamo o smontano o non crediamo in quello che facciamo prima, comunque c'è una schizofrenia. Il feedback che io uso è aver compilato questa tabella grossa con tutti gli obiettivi di apprendimento, le competenze che le indicazioni ci segnano, in un linguaggio, li ho tradotti in un linguaggio comprensibile, questa tabella mi serve per osservare delle cose e quindi non è che tutte le volte che fai una prova o sei in esercizio ti metto giallo, rosso, verde, che sono i tre colori che uso, non ti so spiegare tanto il significato, hai capito? E quindi, come dire, con quella tabella, con quelle cose lì, io posso appuntarmi delle cose che vedo, che osservo. La stessa tabella ce l'hanno in mano i bambini e si autovalutano dalla terza con i colori, la stessa tabella ce l'hanno in mano i genitori, a quali chiedo quando facciamo i colloqui, portate il compito e ci confrontiamo perché io imparo delle cose dal loro punto di vista e loro imparano delle cose perché scopriamo che sono magari lo stesso bambino ma sono due mondi diversi, no? Allora il genitore magari ti dice ma io faccio fatica a vedere questa cosa a casa con mio figlio, vabbè, è vero, può essere. O magari ti dice questa cosa che tu hai messo verde, maestro, io non lo vedo mai in grado di farla, lo vedo proprio in difficoltà, allora questo mi dice forse ho osservato la cosa sbagliata e quindi mi stimola a rivedere alcune cose. questo però cosa crea? All'inizio, insomma poi tenere il rapporto per cinque anni, un lavoro con le famiglie che è necessario, che non possiamo pensare che il bambino non arrivi, cioè piova dal cielo tutte le mattine e poi no? Sparisca ancora nel lettre, nel cloud e poi ritorna giù. E dall'altra però ti permette di creare un rapporto di fiducia, cioè un rapporto per cui trasparente, per cui ti si dice guardate io non sono mai uscito a cena con i genitori dei bambini che sono nella mia classe, non mi hanno mai messo una pacca sul sedere dicendomi ci diamo del tu, ma questo per me non è mancanza di rispetto, loro mi dicono delle cose che vedono, su quali sono d'accordo o non sono d'accordo e io cambio, cioè certe volte certe scelte mi hanno fatto pensare loro io non ho dato i compiti per due anni e mezzo, poi a un certo punto non è il caso di abituarli, boh non lo so, pensa, 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 adesso abbiamo questi piccoli impegni quotidiani, no? Per abituarci a, però questa cosa me l'hanno detta i genitori, al contrario, adesso va molto di moda dire basta compiti, no? Che, cioè probabilmente abbiamo sbagliato dall'altra parte, però come dire in questo dialogo, no? Si crea un rapporto, io dico di fiducia, o quantomeno un rapporto in cui dall'altra parte io, genitore, spero, capisco che c'è una persona che fa delle scelte su dei presupposti che crede importanti e mi accontento per ora, perché poi le ansie crescono quando si arriva appunto in quinta e dobbiamo andare in prima media e magari mio figlio che ha la dislessia, lo vedo che ancora sbaglia tutte le doppie, disgrafica, disortografica, diciamoci da tutte e mi sento un po' in difficoltà, non mi ricordo cosa volevo dire, queste ansie che sono, come dire, le ansie cresce sono legittime, quindi ti chiedono magari di omettono in discussione delle cose, però il rapporto di fiducia, cioè la trasparenza e dall'altra parte il fatto che tu scegli delle cose per mio figlio e io lo vedo comunque felice, questo mi dà un buon indicatore del fatto che le cose stanno andando bene, cioè non lo so, è questo. Grazie, io volevo sapere che cos'è per lei la storia, che cosa serve se lei ha fatto questa scelta? Ci sto, altre domande? Cos'è per me la storia? Questa tua visione è comunque molto, mi sembra quasi di tornare indietro, no? Perché comunque non parli mai di tecnologia, per te può essere comunque uno strumento che poi potresti utilizzare oppure proprio la demonizzi? Perché non avevo la televisione, dici? No, 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 scherzo, ho fatto l'esempio prima che avevo appena comprato la televisione, dopo 18 anni di matrimonio. Allora, le due cose, la storia che cos'è? La storia secondo me è una bellissima occasione per imparare a fare ricerca, per me è questa la storia, almeno la primaria, il metodo storico che cos'è? E' proprio quella cosa che ci serve, non so, il pensiero critico, parliamo di educazione nella cittadinanza, cioè tutte queste cose che parliamo, di cui parliamo, un bambino l'altro giorno proprio sulla storia, sono arrivati dei bambini in un'altra classe dicendo sai che stiamo vedendo cosa dice uno scienziato, poi cosa dice l'altro scienziato, di discipline diverse, cosa fa il geologo, stiamo approfondendo questa cosa qua, lui li guarda, sorride e dice ma che noia, scusa, ma non potete farlo voi, di provare a dire che cosa fa questo, vestire i panni di, cioè questa simulazione della realtà, ecco cosa devo dire della classe capovolta. E quindi per me la storia è una bellissima occasione per sviluppare il pensiero critico, non per imparare delle cose a memoria, per mettere in discussione dei presupposti o delle tradizioni, delle cose che abbiamo sempre, adesso che stiamo vedendo i greci, i greci, santo cielo, quelli hanno a un certo punto detto che tutto ciò che c'era prima poteva essere migliorato, che non si poteva soltanto guardare la tradizione, bisognava andare avanti e andare avanti, loro hanno scelto quelle strade lì. La storia parla molto di noi, quando abbiamo parlato dell'evoluzione dell'uomo, quando abbiamo visto adesso i popoli e adesso ci stiamo interrogando sul fatto che ci sono persone che appunto scelgono nella vita di cambiare paese o devono scappare da un paese in ospitale o quando tutti gli anni facciamo questo momento di ricordo su Auschwitz e sul giorno della memoria, perché io tutti gli anni per altre scelte porto dei ragazzi a visitare grandi, a visitare il campo di concentramento di Auschwitz e quindi ho raccontato loro questa esperienza, ho scritto una lettera quando ero là, insomma, la storia è questa cosa qua, è una ricchezza che ci interroga molto sul presente. Io la uso così, ma non so se la uso bene o la uso male. La tradizione, la tecnologia. Allora, io sono in una scuola dove praticamente se sto dentro non prende neanche il telefono, in un paesino dove il segnale proprio neanche nelle case quasi non arriva. L'anno scorso è arrivata una LIM, quindi siamo già pensando di essere moderni obsoleti. Pombia, provincia di Novara, vicino al lago... Ah, sì. Dove c'è lo Zosafari, sì. Che cosa credo io? Io l'anno scorso per caso sono finito nell'aula LIM, cioè nel senso che mi hanno dato quell'aula come aula, perché ero già lì, insomma, la LIM è arrivata dopo ed era l'unico posto dove potevano metterla e quindi io l'ho sempre utilizzata. Scrittura dei testi, ascoltare i testi che ci legge il computer, piuttosto che fare i testi collettivi, li impaginavamo lì, abbiamo fatto il giornale lì sopra. Insomma, è diventato uno strumento, citavamo una cosa, andavamo a vedere le immagini, cercavamo di capire, no? Uno sta parlando di una cosa che succede all'altra parte del mondo, ma che cos'è? Andavamo a vedere. Cioè diventava un supporto da questo punto rivista. Adesso, dalla fine dell'anno scorso col giornale e da quest'anno sto usando tantissimo la classe virtuale di Google Classroom, no? Perché mi permette di appunto portare avanti delle cose che, insomma, viviamo in classe, a loro rimane una traccia diversa. Adesso hanno iniziato a commentare le cose che man mano pubblichiamo, abbiamo fatto questa cosa di scienza della terra a partire da i pinguini che sono tutti morti, no? Allora abbiamo caricato, adesso immagino, ogni volta che troviamo un articolo io lo metto dentro o adesso inizieranno, spero, metterlo anche loro, insomma, comunque loro commentano. Quindi diventa un'interazione, cioè sicuramente il digitale ha espanso questa possibilità. Io però sono anche montessoriano e quindi, come dire, per me il legno e il cartone, cioè insomma, quella manipolazione non può non esserci. Anche perché sono d'accordo alla generazione Z e proprio perché la generazione Z deve avere anche un'altra possibilità che probabilmente non ha più. E a scuola questa cosa va coltivata. Sì, l'ho scoperto quando ho fatto il corso Montessori. Perché ho visto una piastrella e ho detto ma questa piastrella io ce l'avevo all'asilo. Scusa, quindi forse è una curiosità. E quindi i tuoi bambini vanno alle medie senza avere una valutazione, diciamo, oggettiva e loro l'accettano e anche il dirigente accetta questo. Hanno una valutazione autentica i miei bambini e quindi io cerco di descrivere ciascuna cosa che loro sanno fare. Io mi concentro molto su quello che sanno fare e come lo sanno fare, dico anche. Quindi quando tu ti trovi una descrizione di un bambino, dico sempre, anche se dovesse capitare il passaggio, mi sono immaginato sempre, perché dalla mia classe per trasferimenti, no? Però invece mi sono sempre arrivati i bambini, vanno via. Io ho detto l'altra persona che arriva e ti trova deve conoscerti il più possibile. Allora, se io ti do otto di italiano, non ti sto dicendo niente della lettura, del parlato, della mettere in riflessione linguistica, bla bla bla. E quindi come dire, io cerco di descrivere questa cosa qui. No? Quindi, non so, scrive, ma per scrivere ortografemente corretto ha bisogno che gli errori, alcuni errori, le vengano indicati, oppure trova da soli i suoi errori. Cerco di dare tutte queste indicazioni in una lettera che scrivo. Adesso qui non posso farti degli esempi, però in questa lettera che scrivo ai bambini innanzitutto. E, buh, questo è il modo. Un po' quello che facevamo da noi a scuola, perché noi eravamo maggiori, ma questa è il Sì, l'unica cosa è che io proprio uso la forma della lettera, perché la lettera, quindi è caro Francesco, e inizio a raccontare il mio modo di vederlo, è quello che io ho visto. Però queste lettere, adesso un bambino mi diceva in questi anni, insomma, un po' di bambini mi dicevano, adesso sai, ogni tanto mi fanno vedere, hanno questa bustona, con dentro tutte le lettere ricevute in questi anni, quando sono triste mi vado a prendere le tue lettere, mi leggo le lettere, sto bene. Io ho fatto questa scommessa quest'anno, perché per me le lettere sono importanti, io quando sono diventato padre ho scritto una lettera ai miei genitori, cioè per me la lettera è uno strumento importante, che è un cui io comunico, per questo dico che non è un modello il mio, perché se tu fai benissimo i quadri o gli acquarelli, magari comunicherai con un altro modo. Ma quest'anno, cioè dall'anno scorso, ho creduto in questa cosa qua, della lettera, e ho chiesto ai genitori di scrivere una lettera ai loro figli. Ecco, vi devo dire che è stata la prima e l'unica volta che tutti i genitori, adesso sto dal microfono, hanno fatto il compito a casa, mentre la tabella col semaforo me l'ha mangiata il cane, non l'ho persa, non so più dov'è. Questa l'hanno fatta tutti. Io quella mattina, io la sera al colloquio ho consegnato le mie lettere ai genitori perché le dessero ai bambini, la mattina ho consegnato le lettere dei genitori ai bambini ed sono stati gli unici momenti di puro silenzio, 15 minuti circa, veramente magici dentro quella classe, con i bambini qualcuno che si era commosso, perché quella cosa lì comunica qualcosa di vero, mi sono detto, e allora anche i genitori devono poter avere questa possibilità, cioè il bambino si ricorderà, spero, che una volta quando ero piccolo i miei separati, non mi interessa, una volta si sono fermati e mi hanno detto qualcosa di come mi vedevano. Io ho avuto una quinta lo scorso anno, il prossimo anno tu non ci sarai più con loro, e? Cioè vengo da te? No? Ah, certo, io, scuola, sì. Io non lo so, diciamo così, adesso cambiamo campo così facciamo l'esempio, ci serve solo come metafora, è un po', no no no, è legittima, è legittima, è una domanda legittima. Secondo me è un po' la differenza che c'è tra la scelta dell'omeopatia e della medicina tradizionale, no? Allora, per esempio, a me in prima un genitore mi ha detto, però come faranno poi all'università? Io ho guardato, aspetta un attimo, devo ancora fare la seconda, la terza, guarda, no no no, prima media è già sufficiente per interrogarsi, ma come faranno dopo? E io, cosa devo fare? Drogarli piano piano, gli do un voto piano piano, piano piano, così ti abitui, ma in realtà loro l'anno scorso me l'hanno detto, maestro guarda è facile, io adesso un giorno li porterò a fare questa esperienza di stare tutta la giornata dentro la scuola media, divisi a coppie, a fare osservazione, preparandoli all'osservazione di cosa dobbiamo andare a vedere, ma loro mi hanno detto, guarda che è facile, quando vai alle medie ti danno i voti, se fai un errore è un voto in meno, e noi, aspetta, no no, ti dico questo, questa è una cosa, noi abbiamo scritto, grande, una delle cinque regole che gli siamo dati è qui si può anche sbagliare, col cavolo che là si può sbagliare, perché se la fai un voto, cioè fai un errore, prendi un voto in meno e quant'altro. Poi c'è tutto un altro modello, no? Cioè è proprio un altro modello di scuola, perché voi pensate che si sta tutta la mattina con un insegnante alla primaria, se ti va bene il colpo, dipende, dall'insegnante anche, passi di là e ogni ora magari cambi insegnante, ogni ora un linguaggio diverso, ogni ora arriva qualcuno che ha la faretta piena di frecce, ti spara tutte le sue frecce, tu devi esserli pronto a prenderne qualcuna, perché l'ora dopo c'è già un altro che combatte contro di te, capisci? Cioè è una guerra, può essere vista così, ma in realtà io penso, adesso non voglio giocare con la vita degli altri, però penso che loro abbiano una capacità, anche un'intelligenza di adattarsi ai contesti, già sanno, e su questo spero che condividiamo, già la classe che noi abbiamo tra le mani è quella formata dai bambini più l'insegnante, e tutte le volte che cambia l'insegnante cambia la classe. A me anche una mia collega, adesso la primaria mi ha detto, i tuoi bambini due cose non sanno fare, che subito si vede cosa non sanno fare, non riconoscono l'autorità, e non stanno mai zitti, cioè hanno sempre voglia di partecipare. Allora, è chiaro che diventa un problema, però loro per cinque anni hanno, io spero che di questa cosa ne facciano tesoro, perché hanno imparato a, io avevo bambini che come tutti non alzavano lo sguardo da terra per parlare con una persona, adesso ti guardano in faccia, ti spiegano le cose, rimangono timidi eh, non è che sono cambiati, sono loro, però in questa cosa sono cresciuti. Ma voi siete privilegiati? Posso sentire il microfono? Sì, ma io non sparo a zero sulla media eh. Sì, 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 vai. A me interessa invece cosa riportano? Sì, 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 te lo dico. No, no, non tanto quello secondo me, però adesso te lo dico. Ah, vabbè, anche questa mi alzi una parte. Va bene, adesso ti, ultime due cartucce. Cosa dicono? Allora, molti fuori, le voci, la voce del paese dice, ah, che fortunati quelli del maestro Davide e tante altre voci del paese, ah, quelli del maestro Davide, faranno una fatica. Ok, quindi, come dire, siamo lì. Gli altri bambini della scuola spesso dicono ai miei, anch'io voglio fare questa cosa qua, anch'io voglio fare questa cosa qua, no? Questa spesso, ma per dirti, in seconda, noi siamo usciti, fare scienze, siamo usciti nove volte nel parco del Ticino, a piedi, con la pioggia, con la neve, con il sole. Gli altri erano in classe a studiare il metodo scientifico, cioè, capisci che... Beh, ma basta alzare la mano e dire, io esco più volte. Ma io non l'ho mai chiesto, sono uscito, eh, sono uscito, sì. E, beh, sono uscito. Ultima risposta? Invalsi, orca miseria, sulla fine... Per certo che mettere una... Scusami, eh, come ti chiami? Silvia, mettere la ciliegina delle invalsi alla fine sulla torta, cioè, proprio, proprio. Allora, io ti dico questo, io ti dico questo, a me, quando guardo le invalsi, mi piacciono. A me mi sembra che, come dire, hanno una marcia e un ritmo, se penso ai problemi in sfida di cui ci ha parlato la collega stamattina, completamente diverso da quella noia mortale che vedo nella ripetizione di problemi esercizio. Detto ciò, ho anche un pensiero politico su questo, per cui mi sono detto che le invalsi, è vero che valutano l'insegnamento, non i bambini, ed è importante che gli insegnanti siano valutati, però ci sono già tanti indicatori, ci sono già tante risorse su questo. Siamo proprio sicuri che serva una risorsa aggiuntiva, con così tanti soldi spesi, per fare questa cosa qua? Perché se, guarda, adesso la faccio banale, ma se ci guardiamo in faccia, già è facile capire... La preparazione di un insegnante... Ok. Detto ciò, in seconda mi si chiede di fare le invalsi, ma il ministero mi dice che io ho tre anni di tempo per raggiungere i primi obiettivi, da indicazione nazionale, e questo mi sembrava un paradosso. Soldi, paradosso. Ho messo insieme le cose e ho dichiarato che io le invalsi non le avrei fatte. Ho dichiarato, insomma, ho detto, faccio obiezioni di coscienza, non so se si può, però ho detto, per favore, non mi mettete a fare le invalsi, non vado in un'altra classe a fare le invalsi, e non voglio neanche correggerle, non mi interessano. In questo momento non mi interessano. No, intanto non le puoi fare nella tua classe, devi andare in un'altra classe a fare. Però cosa ho fatto? Ho scritto una lettera alla mia dirigente, ho scritto una lettera ai miei genitori, in cui ho spiegato le mie motivazioni. No. Scusa? No, non mi hanno fatto la lettera di richiamo, però potrebbero farmela, cioè... Va bene, non è un problema. Però, diciamo, io ho trovato questo escamotage, perché poi alla burocrazia, all'organizzazione, c'è sempre una risposta. Cioè, se iniziamo in Italia, fossimo in Germania, non lo so, ma siamo in Italia. No, perché avevo bambini con così tante difficoltà che non volevo metterli in quella situazione. Era più il desiderio di non volerli mettere in quella situazione che di voler verificare qualcosa. Quindi mi sono detto, genitori, io la penso così, ma io non ho la verità in tasca. Quindi voi fate la scelta che ritenete più opportuna. Se non li mandate a scuola, io ho preso due ore di permesso, sto fuori e li tengo io quella mattina. Se no, è la stessa faccia che mi ha fatto un altro insegnante quando ho detto... No, 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 aspetta, aspetta. A voi potremmo parlare. Sì, sì, sì. Però adesso, ok, quindi non le ho fatte. E loro, nessuno quella mattina si è presentato a scuola, siamo entrati alle dieci e mezza, e boh. Quest'anno siamo in quinta. Quest'anno siamo in quinta. Secondo me, mi sono detto, possono anche... Cioè, non è più un problema per loro affrontare questa cosa. Ormai chi deve, come dire, anche chi ha tante difficoltà, ad esempio, nella lettura, dovrà fare una prova di lettura, no? Con un tempo, con tutto. Può mettersi lì a sperimentare questa fatica? Non è. Mi dà molto fastidio il costo di questa macchina. Su quello, già, come dire, io faccio le mie scelte. Nel senso, non avere preso i libri di testo vuol dire che già io allo Stato, invece di buttare i miei soldi in un certo modo, li faccio spendere in un altro, con altri materiali, con altre cose. Su quella cosa mi sono detto, beh, forse questa cosa posso accettarla quest'anno per loro. Non mi sembra di metterli in difficoltà. più di tanto. È una difficoltà più mia, Silvia, a accettare questa cosa. Però, ti dico, mi piacciono anche abbastanza i problemi che ci sono sull'embas. Va bene, grazie. 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 Grazie.